Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Oggi è il giovedì, giovedì 6 di maggio del 2021 e noi stiamo leggendo la parola del Signore, stiamo leggendo il quinto libro della parola di Dio, il libro di Deuteronomio. Quindi questa puntata noi leggeremo i capitoli, capitoli 12, 13 e 14 del libro di Deuteronomio. Leggiamo la parola del nostro Dio, parola del Signore, Deuteronomio capitolo 12. Queste sono le leggi e le prescrizioni che avrete cura di osservare nel paese che il Signore, il Dio dei tuoi padri, ti dà. Perché tu lo possiega tutto il tempo che vivrete nel paese. Distruggerete interamente tutti i luoghi sugli alti monti, sui colli e sotto ogni albero verdeggiante, dove le nazioni che state per scacciare servono i loro dei. Demolerete i loro altari, spezzerete le loro statue, darete alle fiamme i loro idoli da starte, e abbatterete le immagini scolpite dei loro dei e farete sparire il loro nome da quei luoghi. Non farete così riguardo al Signore, vostro Dio, ma lo cercherete nella sua dimora, nel luogo che il Signore, il vostro Dio, avrà scelto fra tutte le vostre tribù per mettervi il suo nome. La andrete, la porterete i vostri olocausti e i vostri sacrifici, le vostre decime, quello che le vostre mani avranno prelevato, le vostre offerte votive e le vostre offerte volontarie, e i primogeniti dei vostri armenti e delle vostre gregi. La mangerete davanti al Signore, vostro Dio, e vi rallegrerete voi e le vostre famiglie, godendo di tutto ciò a cui avrete messo mano e con cui il Signore, il vostro Dio, vi avrà benedetti. Non farete come facciamo oggi qui, dove ognuno fa tutto quel che gli pare bene, perché finora non siete giunti al riposo e all'eredità che il Signore, il vostro Dio, vi dà. Voi dunque passerete Giordano e abiterete il paese che il Signore, il vostro Dio, vi dà in eredità. Avrete pace da tutti i vostri nemici che vi circondano e vivrete nella sicurezza. Allora porterete al luogo che il Signore, il vostro Dio, avrà scelto per dimora del suo nome tutto quello che vi comando, i vostri olocausti e i vostri sacrifici, le vostre decime, quello che le vostre mani avranno prelevato e tutte le offerte e scelte che avrete consacrato per voto al Signore. Vi rallegrerete davanti al Signore, il vostro Dio, voi e i vostri figli e le vostre figlie e i vostri serve e le vostre serve e il Levita che abiterà nelle vostre città e poiché Egli non ha né parte né proprietà tra di voi. Allora ti guarderai bene dall'offrire i tuoi olocausti in un luogo qualsiasi, ma offrirai i tuoi olocausti nel luogo che il Signore avrà scelto in una delle tribù, la farai quello che ti comando. Però potrai a tuo piacimento scanare animali e mangiarne la carne in tutte le tue città secondo la benedizione che il Signore ti avrà elagita. Tanto colui che sarà impuro come colui che sarà puro ne potranno mangiare come si fa della carne di gazzella e di cervo. Ma non ne mangerete il sangue, lo spargerai per terra come acqua. Non potrai mangiare entro le tue città le decime del tuo frumento, del tuo mosto, del tuo olio, né i primogeniti dei tuoi armenti, né le tue gregi, né ciò che avrai consacrato per voto, le tue offerte volontarie, né quel che le tue mani avranno prelevato. Mangerai queste cose davanti al Signore tuo Dio, nel luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto, tu, tuo figlio, tua figlia e tuo servo, la tua serva e le vita che abitano nelle tue città. E ti rallegrerai davanti al Signore tuo Dio di ogni cosa a cui avrai messo mano. Guardati bene tutto il tempo che vivrai nel tuo paese dal trascurare le vita. Quando il Signore tuo Dio avrà ampliato i tuoi confini come ti ha promesso, e tu desiderando mangiare carne dirai vorrei mangiare carne, allora potrai mangiare a tuo piacimento. Se il luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto per porvi il suo nome sarà lontano da te, potrai scanare del bestiame grosso e minuto che il Signore ti avrà dato come ti ho prescritto e potrai mangiarne a piacimento entro le tue città. Soltanto ne mangerai come si mangia la carne di gazzella e di cervo, ne potrai mangiare tanto chi sarà impuro quanto chi sarà puro. Ma guardati assolutamente dal mangiare il sangue perché il sangue è la vita e tu non mangerai la vita insieme con la carne. Non lo mangerai, non lo spargirai per terra come acqua. Non lo mangerai, lo spargirai per terra come acqua. Non lo mangerai affinché tu sia felice e i tuoi figli dopo di te quando avrai fatto ciò che è giusto agli occhi del Signore. Ma quanto alle cose che avrai consacrato o promesso per voto, le prenderai e andrai al luogo che il Signore avrà scelto. E offrirai i tuoi olocausti, la tua carne e il sangue sull'altare del Signore, tuo Dio. E il sangue delle altre tue vittime dovrà essere sparso sull'altare del Signore tuo Dio e tu mangerai la carne. Osserva e ascolta tutte queste cose che ti comando, affinché tu sia felice e i tuoi figli dopo di te quando avrai fatto ciò che è bene e giusto agli occhi del Signore tuo Dio. Quando il Signore tuo Dio avrà sterminato davanti a te le nazioni che tu stai andando a spodestare e quando le avrai spodestate e ti sarai stabilito nel loro paese. Guardati bene dal cadere nel laccio seguendo il loro esempio dopo che saranno state distrutte davanti a te e dall'informarti sui loro dei dicendo come servivano i loro dei queste nazioni, anch'io voglio fare lo stesso. Non farai così riguardo al Signore tuo Dio poiché essi praticavano verso i loro dei tutto ciò che è abominevole per il Signore e che Egli detesta. Davano perfino alle fiamme i loro figli e le loro figlie in onore degli dei. Avrete cura di mettere in pratica tutte le cose che vi comando e non vi aggiungerai nulla e nulla ne toglierai. Parola del nostro Signore. Ora noi leggeremo Deuteronomio capitolo 13. Quando sorgerà in mezzo a te un profeta o un sognatore che ti annuncia un segno o un prodigio e il segno o il prodigio di cui ti avrà parlato si compie ed Egli ti dice andiamo dietro a dei stranieri che tu non hai mai conosciuto e serviamoli. Tu non darai retta alle parole di quel profeta o di quel sognatore perché il Signore e il vostro Dio vi mette alla prova per sapere se amate il Signore e il vostro Dio con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra. Seguirete il Signore e il vostro Dio lo temerete osserverete osserverete i Suoi comandamenti ubbiderete alla Sua voce lo servirete e vi terrete stretti a Lui. Quel profeta o quel sognatore sarà messo a morte perché avrà predicato l'apostasia dal Signore Dio vostro che vi ha fatto uscire dal paese d'Egitto e che vi ha liberati dalla casa di schiavitù per spingerti fuori dalla via per quale il Signore tuo Dio ti ha ordinato di camminare. Così toglierai il male di mezzo a te. Se tuo fratello figlio di tua madre o tuo figlio o tua figlia o tua moglie che riposa sul tuo seno o l'amico che è come un altro te stesso vorranno ingannarti in segreto dicendo andiamo serviamo altri Dei quello che né tu né i tuoi figli quello che né tu né i tuoi padri avevano mai conosciuto. Dei adorati dai popoli che vi circondano vicino a te o da te lontani da un'estremità all'altra della terra tu non la consentirai tu non gli darai retta l'occhio tuo non abbia pietà per lui non risparmialo non giustificarlo anzi uccidilo senza altro la tua la tua mano sia la prima a levarsi su di lui per metterlo a morte poi venga la mano di tutto il popolo lapidalo e muoia perché ha cercato di spingerti lontano dal Signore tuo Dio che vi ha fatto uscire dal paese d'Egitto dalla casa di schiavitù e tutto Israele loudrà e temerà e non commetterà più una simile azione malvagia in mezzo a te se a proposito di una delle città che il Signore tuo Dio ti dà per abitare sentirai dire uomini perversi sono sorti in mezzo a te e hanno sedotto gli abitanti dalla loro città dicendo andiamo serviamo altri dei che voi non avete mai conosciuti tu farai delle ricerche investigherai interrogerai con cura se troverai che è vero che il fatto sussiste che una tale abominazione è stata realmente commessa in mezzo a te allora metterai senz'altro a fil di spada gli abitanti di quella città la volterai allo sterminio con tutto quello che contiene e passerai a fil di spada anche il suo bestiame radunerai tutto il bottino in mezzo alla piazza e darai interamente alle fiamme alla città con tutto il suo bottino come sacrificio arso interamente per il Signore vostro Dio essa sarà per sempre un mucchio di rovine e non sarà più ricostruita nulla di ciò che sarà così votato lo sterminio si attaccherà alle tue mani affinché il Signore rinunzi alla sua ira ardente ti faccia misericordia abbia pietà di te e ti moltiplichi come giurò ai tuoi padri di fare se tu ubiderai alla voce del Signore tuo Dio osservando tutti i suoi comandamenti che oggi ti do e facendo ciò che è giusto agli occhi del Signore tuo Dio parola del nostro Signore Deuteronomio capitolo 14 voi siete figli per il Signore vostro Dio non vi fate incisioni addosso e non vi radete tra gli occhi per un morto poiché tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio il Signore ti ha scelto perché tu sia un popolo prediletto fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra non mangerai nessuna cosa abominevole questi sono gli animali che potrete mangiare il bue la pecora e la capra il cervo la gasella il daino lo stambecco l'antilope il capriolo il camoscio potrete mangiare ogni animale che ha lunga spartita il piede forcuto e che rumina ma non mangerete quelli che ruminano soltanto o che hanno soltanto lunghe spartita e il piede forcuto e sono il cammello la lepre l'irace che ruminano ma non hanno lunghe spartita considerateli impuri anche il porco che ha lunghe spartita ma non rumina lo considererete impuro non mangerete la loro carne e non toccherete i loro corpi fra tutti gli animali che vivono nelle acque potrete mangiare tutti quelli che hanno pine e squame ma non mangerete nessuno di quelli che non hanno pine e squame considerateli impuri potrete mangiare qualunque uccello puro ma ecco quelle che non dovete mangiare l'aquila e lo sigraf o sigfraga e l'aquila di mare l'inibbio e il falco e ogni specie di avvoltoio ogni specie di corvo lo struzzo e il barbagianni il gabbiano e ogni specie di isparviero il gufo l'ibis il cigno il pellicano il tuffolo lo smergo la cicogna ogni specie di airone e lo pupa e il pipistrello considererete impuro ogni insetto alato non se ne mangerà potrete mangiare ogni volatele puro non mangerete nessuna bestia morta da sé la darai allo straniero che sarà nelle tue città perché la mangi o la venderai a qualche straniero poiché tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio non farai cuocere capreto nel latte di sua madre avrete cura di prelevare la decima da tutto ciò di tutto quello che produrrà la tua semenza da quello che fruttiferà il campo ogni anno mangerà in presenza del Signore tuo Dio nel luogo che Egli avrà scelto come dimora del suo nome la decima del tuo frumento del tuo mosto e del olio e i primi parti del tuo armenti e delle tue egregi affinché impari a temere sempre il Signore e il tuo Dio ma se il cammino è troppo lungo per te e tu non puoi trasportare fin là quelle decime essendo troppo lontano da te il luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto per stabilirvi il suo nome perché il Signore il tuo Dio ti avrà benedetto allora li convertirai in denaro terrai stretto in mano questo denaro andrai al luogo che il Signore tuo Dio ti avrà scelto impiegherai quel denaro per comperarti tutto ciò che il tuo cuore desidera bue pecore vino bevande alcoliche e qualche cosa possa piacerti di più e li mangerai in presenza del Signore tuo Dio e ti rallegrerai con la tua famiglia non abbandonerai il levita che abita nelle tue città poiché non ha parte né eredità con te alla fine di ogni triennio metterai da parte tutte le decime delle tue entrate di quell'anno e le depositerai dentro le tue città e le vita che non ha parte in eredità con te lo straniero lo orfano e la vedova che abitano nelle tue città verranno mangeranno e si sazieranno affinché il Signore tuo Dio ti benedica in ogni opera a cui porrai mano parola del nostro Signore noi ringraziamo il Signore ancora una volta per questo tempo di lettura della parola di Dio e ti invito perché tu domani venerdì possa essere con me a continuare la lettura della parola del Signore un forte abbraccio un santo bacio e che la parola del Signore rimanga nella tua vita nel nome di Gesù e che la parola